Sento il bisogno di ringraziarli tutti, Alice Salvatore, Andrea Melis, Marco De Ferrari, Sergio Battelli, Rago, Toninelli che è stato quello che ha concluso meravigliosamente questa serata e poi ringrazio l'organizzatrice, una delle organizzatrici, Cristina, che mi ha invitato, mi ha consentito di venire qui in questa splendida città che amo moltissimo come amo tutta la Liuria. Ecco, io vorrei dire alcune cose, risento anche della mia formazione culturale di magistrato che deve improntare le sue affermazioni anche a una certa prudenza senza esagerazioni, però devo dire anche la verità e devo anche mettere in allarme i cittadini rispetto a quello che può accadere se dovesse essere varata questa infame riforma costituzionale. Noi avremmo un colpo di Stato, avremmo la perdita della libertà, avremmo la perdita dell'eguaglianza dei diritti sociali, avremmo una serie di gravissime conseguenze. Non ultima, un tema che non è stato affrontato, la questione della guerra. Uno degli articoli che si vuole cambiare è l'articolo 78, che prevede oggi, prima della riforma, che la dichiarazione di guerra debba essere fatta congiuntamente da Camera e Senato. Invece che sono arrivati, è arrivato Renzi, che ha deciso, perché è lui che ha fatto, la riforma è stata fatta non da Napolitano, ma quelli che sono gli ispiratori di Napolitano, poi vedremo chi sono questi ispiratori, hanno cambiato quest'articolo 78 che prevede che sia solo la Camera dei Deputati a dichiarare la guerra. Ora che c'entra questa storia con la riforma costituzionale? Non c'entra niente, perché c'è una precisa volontà di attribuire al Presidente del Consiglio la possibilità di dichiarare una guerra, perché stanno preparando una guerra preventiva contro l'Iran e contro la Russia, perché c'è un governo mondiale invisibile che esiste e che comprende anche questi vari gruppi, gruppo Bilderberg, questi gruppi bancari che sono stati qui citati, i quali vogliono stravolgere la nostra Costituzione per portarla al presidenzialismo, per fare in modo che questo gruppo mondiale, questo governo mondiale invisibile che controlla il Parlamento europeo attraverso i Presidenti del Parlamento europeo, come Barroso che è iscritto al gruppo Bilderberg e che è stato attaccato anche dai giornali di Lisbona un mese fa quando io sono stato a Lisbona e purtroppo anche il Prodi fa parte del gruppo Bilderberg, noi insomma siamo nelle mani di gruppi che vogliono uccidere la nostra sovranità e la nostra democrazia, queste sembrano cose gambate in aria e sono realtà, noi siamo in un momento molto delicato e molto difficile e io ho il dovere di allearmarmi e di dire le cose come stanno, io sono stato richiesto all'onore immeritatamente di andare all'Università di New York fra pochi giorni per fare due conferenze sulla strategia dell'attenzione mondiale e mi sono documentato su quello che sta accadendo in Europa, dove ci sono delle pressioni perché si faccia un'altra guerra preventiva sbagliata contro l'Iran come è stata fatta contro l'Iraq e questo è possibile anche attraverso il cambiamento dell'articolo 78 della Costituzione di cui nessuno parla, a parte tutte le altre elefantezze che qui sono state illustrate prima di me, ecco allora io voglio dire che noi dobbiamo stare a pelle quelle che dicono sul fatto che vogliono far risparmiare, già è stato detto e io ho replicato attraverso un durissimo intervento che ho fatto sui media, sul Facebook e su Twitter per dire che questo Presidente del Consiglio non si può permettere e ho richiamato l'attenzione di Mattarella sulla necessità che gli intervenga per correggere le menzogne che questo signore ogni giorno rifila al popolo italiano perché non è possibile che questo dica delle cose che nessuno possa andare in televisione a smentirlo, questa storia dei 50 e dei 500 milioni è una storia, ma ogni giorno lui dice delle bugie che sono assolutamente inaccettabili e che tendono a sviare il popolo italiano rispetto alle scelte che devono fare che sono importanti. Ora in sostanza che cosa dice questo Presidente? Dice noi vi facciamo risparmiare e abbiamo dimostrato che non c'è nessun risparmio perché le cose che lui doveva fare per risparmiare i cittadini sono altre, sono la riduzione degli enti pubblici, delle società partecipate che costano 23 miliardi di Euro all'anno, la lotta alla corruzione che sono 70 miliardi di Euro all'anno, la lotta all'evasione fiscale 150 miliardi di Euro all'anno sono cifre precise che vengono dalla Corte dei Conti e che dimostrano che noi non vogliamo come governo cambiare le cose, facciamo finta di fare delle leggi, facciamo finta di fare delle leggi che eliminano la prescrizione, l'impunità dei corrotti e di evasori fiscali, poi alla fine non facciamo niente, questa è una grande vergogna di questo governo e di questa maggioranza, io ho affidato tutte le mie speranze al Movimento 5 Stelle che secondo me è un grande movimento che sta agendo con grande intelligenza anche se non ne faccio parte e lo dico perché voglio invogliare anche quelli che non appartengono al Movimento 5 Stelle a incoraggiare questi ragazzi perché hanno dimostrato fino a questo momento di avere anche una grande capacità professionale. Tutte le leggi che sono state fatte da questo governo e da questa maggioranza sono leggi che vanno contro l'eguaglianza dei diritti sociali, il Jobs Act che ha umiliato il lavoro, che considera il lavoro come una merce soggetta alla legge della domanda dell'offerta, noi abbiamo i lavoratori peggio pagati d'Europa che lavorano più di tutti in Germania e in Francia la settimana lavorativa di 35 ore, noi abbiamo una settimana lavorativa di 40 ore, poi ancora se il lavoratore viene licenziato illegittimamente non può essere costretto il datore di lavoro a riassumere il lavoratore, quindi i diritti del lavoratore sono completamente mortificati e umiliati, abbiamo avuto la legge salvabanche, i poveri risparmiatori hanno subito truffe per miliardi, bene questo invece di fare la legge a favore dei risparmiatori fa la legge a favore dei truffatori perché lì c'era il padre di Elena Boschi che è stato incriminato, però lo Stato non è successo proprio niente, è una vergogna questa cosa che grida vendetta, altra legge infame è la legge IMU Banca Italia, 7 miliardi e mezzo alle banche private, a quelle banche che ci hanno costretto a entrare in Europa con l'euro, al Goldman Sachs e altre banche che sono state condannate in America. In America quando le banche hanno truffato i risparmiatori, sono stati chiamati in causa da Obama il quale ha citato queste banche perché le banche hanno truffato i cittadini, in Italia avviene tutto il contrario, hanno fatto la legge salvabanche per cui uno non si può rivolgere alla magistratura ma deve chiedere l'autorizzazione, non ne vede bene a chi? Alla Banca d'Italia, ma chi è la Banca d'Italia che ha fatto fare queste cose? Cioè l'ho messo controllo della Banca d'Italia perché avvenisse questa truffa in danno di migliaia e migliaia di risparmiatori, 30 mila o 40 mila mi hanno invitato a Cortona questi poveracci che hanno perduto tutto il frutto delle fatiche della loro vita e allora altra legge infame è stata la legge che è stata approvata in violazione delle regole che è quella dell'italicum, ma la stessa legge di revisione costituzionale è stata approvata con una specie di voto di fiducia nel senso che hanno messo il super canguro per cui la minoranza, l'opposizione non ha potuto proporre i suoi emendamenti, cosa che è assurda. Cioè noi abbiamo una costituzione che è stata approvata, quella vigente, dal 95% del Parlamento italiano, tutti i partiti, tranne i partiti fascisti, questa legge è stata invece approvata dal 25% del Parlamento. Beh, questa è una vergogna. io ho letto ieri le cose che scriveva Calamandrei, Calamandrei ha detto che il governo non doveva proprio partecipare a questa riforma, la riforma doveva essere fatta solo dal Parlamento, non dal governo, perché il governo che cosa vuole fare? Vuole fare le leggi per dare maggiori poteri al Presidente del Consiglio, che non merita fiducia, perché noi abbiamo una storia pericolosa, al governo sono andati i Presidenti del Consiglio che sono dei delinquenti, a cominciare da Andreotti, a proseguire con Craxi, a proseguire anche con Francesco Cossiga, a proseguire con altri mascalzoni che sono andati al governo. Com'è pensabile che noi diamo maggiori poteri a persone che hanno dimostrato Berlusconi che è stato condannato? Cioè noi abbiamo avuto per 40 anni persone che sono state condannate, o per corruzione, o per relazione fiscale, o per... Andreotti è stato condannato pure per omicidio, in corte d'assise d'appello a Perugia per l'omicidio Pecorelli. Poi la Cassazione ha aggiustato le cose e ha cancellato la condanna di Andreotti. Come possiamo dare maggiori poteri a chi fa le leggi a favore dei propri amici, dei propri parenti, dei ricobancarottieri? Non lo possiamo dare queste cose. Noi vogliamo un Parlamento sovrano e vogliamo evitare una Repubblica Presidenziale. Ecco, io credo che noi dobbiamo pretendere che la Costituzione sia attuata. Vogliamo che sia attuata l'articolo 3 della Costituzione che dice compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Questo è il cuore della riforma che deve essere attuata. Le leggi vanno fatte tutto contro l'eguaglianza dei diritti sociali. Tanto è vero che hanno fatto approvato una legge, quella di bilancio, che prevede che sono aumentati, decuplicati gli stipendi dei commessi della Camera del Senato, gli stipendi dei funzionari, gli stipendi dei funzionari del Parlamento, non solo della Camera del Senato ma anche del Quirinale. Sono miliardi che vengono spesi e l'hanno inserito questa cosa, attenzione, nell'articolo 40 della Costituzione. Cioè hanno costituzionalizzato le diseguaglianze. E queste cose io le ho sapute grazie al Movimento di C2 Stato. I giornali non ne parlano e niente meno. Voi fate queste nefandezze. Credetemi, si sono ribellati anche i funzionari del Senato. Il funzionario del Senato, venuto da me, ha fatto, mi pare che c'era quella serie che hanno fatto questo funzionario bravissimo, che si chiama Buonanno, mi sembra, che ha organizzato, ha partecipato anche Toninelli, un convegno in cui lui ha lamentato il fatto che siano attribuiti troppi privilegiare il funzionario del Senato. E questo era un funzionario del Senato. Ora, queste cose di cui non parla né la radio, né la televisione, né i giornali, sono cose che fanno rabbrividire. Allora, io credo che noi non abbiamo bisogno di altre cose. Cioè dire le nefandezze, i pericoli in cui andiamo incontro, ripeto, anche col fatto che questa legge, questa riforma, non si sa da chi è stata fatta. Quello che è sicuro è che non l'ha fatta Renzi, però a lui è stata imposta, ma lui l'accetta. Lui dice che l'ha fatta Napolitano, il peggiore, sono d'accordo. Però c'è anche Cossiglia che fa una bella guerra con Napolitano, perché pure lui ha fatto delle cose durante la vicenda Moro, perché Moro è morto perfetto, di un complotto vergognoso, che è stato ordito dal potere politico perché venisse ucciso. E questo l'ho scritto in un libro e nessuno l'ha smentito, nessuno l'ha smentito. E allora avevamo questo grande statistico. Se facciamo la storia della nostra Repubblica, noi avevamo tre grandi statistiche. Uno è stato Alcide di Gasperi, che è stato oggetto di attentati, molti non lo sanno, io l'ho letto, è stato costretto a lasciare. L'altro Moro, che è stato ucciso grazie all'inerzia deliberata del potere politico di cui facevano parte Cossiga e Andreotti, è sicuro questo, l'ho scritto e nessuno l'ha smentito. E l'altro è stato Mariano Rumor, il quale ha subito un tentativo di omicidio che però non lo ha colpito, ma sono morti dodici agenti di polizia a Milano, via fate bene fratelli. Perché? Perché lui voleva fare il governo con Moro e con Neni e non lo poteva fare. Questa è storia di questo paese. Allora come possiamo dare noi maggiori poteri a una persona che già ne abusa adesso, mentre dovrebbe rispettare l'opposizione che è organo della sovranità nazionale e che ha diritto di diventare maggioranza, perché noi vogliamo che questa opposizione diventi maggioranza. E allora io concludo ringraziando tutti quelli che mi hanno preceduto, che sono stati molto bravi, dicendo che noi dobbiamo impegnarsi allo spasimo per evitare questa riforma, perché sarebbe la rovina dell'Italia. Noi saremmo coinvolti, anzi tutto in leggi a favore delle banche e contro i lavoratori, ma anche in una guerra pericolosa che si sta preparando. Mi sono letto anche il New York Times oggi. Ci sono delle strane alleanze tra l'Israele e l'Arabia Saudita. Uno dei principali consiglieri di Matteo Renzi, sapete chi è? Michael Ledin, che è indagato in America per essere una spia israeliana. Insomma, noi a chi dobbiamo dar conto? Agli italiani, oppure a questo governo mondiale invisibile che incombe su di noi e che ci condiziona nello sviluppo della nostra democrazia. Queste non sono balle, queste sono cose che io… C'è stata una riunione a Firenze nel 2005, alla quale hanno partecipato Renzi, poi c'era questo Michael Ledin che ha partecipato pure al complotto contro Moro perché era consigliere di Costiglia e c'era Richard Bell, il quale hanno detto che l'ONU è un'associazione criminale internazionale, roba da pazzi. Si è ribellato anche, niente male che D'Alema, che stava lì presente, che ha detto ma lei che sta dicendo? E quindi ha fatto bene D'Alema a quella volta, infatti l'ho scritto nel libro. Cari signori, qui la cosa è molto più seria di quando voi possiate immaginare. Io credo che voi già siate convinti, ma non basta, dobbiamo convincere tutti gli altri che sono disinteressati. Io resto sbalordito per le cose che ha detto anche Toninelli ed altri, cioè che gli altri non sanno il pericolo a cui vanno incontro. Questi sono degli avvocati che mi hanno scritto, dice io sarei per il sì, ma come, sei pazzo? mio fratello, oh ma sei pazzo? Insomma qua bisogna informare le persone. E allora ecco che io vorrei concludere questo modesto contributo che ho dato ricordando che la Costituzione non non è un arido elenco di articoli senza nome, è appunto il testamento spirituale di 200.000 morti. Dietro ogni articolo della Costituzione ci sono dei giovani, giovani come voi, caduti, caduti combattendo, giovani che hanno dato la vita perché le parole giustizia e libertà venissero scritte nella Costituzione. E se qualcuno vi chiede dove è nata la Costituzione, dite andate sulle montagne diceva Calamandrei dove i partigiani sono stati fucilati, andate nelle campagne dove sono stati impiccati, andate nelle carceri dove sono stati torturati, laddove è morto un italiano per riscattare la dignità del popolo italiano andate lì col pensiero, giovani perché lì è nata la nostra Costituzione. Grazie.